Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto un'ottima fase difensiva e abbiamo gestito male tutte le situazioni che si sono create per offendere il Padova e per cui abbiamo subito soprattutto il secondo tempo. Però siamo stati bene in campo, siamo stati ordinati, non abbiamo preso gol. Noi potevamo fare meglio sulla gestione della palla, almeno una decina di volte. È la quindicesima partita che non prendiamo gol. C'è tutto per essere contenti anche se sono molto convinto che si potesse fare di più e non lo abbiamo fatto. L'obiettivo è la salvezza. Questa è stata la dichiarazione del Presidente a inizio anno perché questa squadra che è quasi fatta dagli stessi uomini l'anno scorso, l'anno scorso ha fatto lo spareggio per una tutta recedere. Per cui l'obiettivo è stato dichiarato la salvezza. Come ho detto al mio Presidente noi siamo in grado di battere tutti ma perdere anche contro tutti. Per cui dipende da noi. Abbiamo perso contro le ultime e vinto contro le prime. Dipende noi quello che vogliamo fare nella vita. Se giochiamo con particolare attenzione, con voglia come abbiamo fatto oggi, anche con molte difficoltà, abbiamo dimostrato di poter vincere anche contro il manto e in questo momento è la squadra, non in questo momento, di inizio anno che è la squadra più forte del campionato. Ma abbiamo perso anche contro le ultime in casa. Dipende da noi. Noi giochiamo partita dopo partita, adesso ne abbiamo due in casa e vediamo la prossima che è contro la processo. Nel caso dovessimo fare il risultato pieno probabilmente avremo già i punti per una salvezza quasi matematica e potremo puntare in avanti. Però la partita bisogna vincere perché la processo l'ultima partita ha vinto fuori casa contro Renate. Ho i capelli bianchi e la barba bianca per cui penso che erano certe esperienze. Le partite vanno giocate e poi vediamo quello che succede perché nessuno ti regala niente.